Saludos cordiales a todos los estudiantes. En este segundo encuentro presentaré las lecciones que Wittgenstein dictó a algunos de sus estudiantes en Cambridge sobre el tema de la estética. All'inizio de su intervento Wittgenstein aborda la cuestión de lo bello entendido como una propiedad del giudicio estético como la attribución de esta presunta propiedad a los obiectos. Dopo aver visto come alcune esperienze artistiche di Wittgenstein hanno influenzato il suo modo di fare filosofia, e è arrivato il momento di chiederci se Wittgenstein abbia mai riflettuto filosoficamente su queste sue esperienze o quantomeno sull'esperienza artistica, se vogliamo, più in generale. La risposta è sì ma solo parzialmente. In realtà la filosofia dell'arte o l'estetica non sono temi particolarmente cari a Wittgenstein a cui lui abbia dedicato dei lunghi periodi della sua carriera. E' altresì vero che però in un ciclo di lezioni tenute nell'estate del 1938 si è occupato di questi temi. Si trovava a Cambridge in una stanza tutto sommato molto piccola e molto modesta rispetto a quella che lui avrebbe potuto ottenere in base alla carriera accademica. Stanza nella quale riuniva un piccolo gruppo di suoi amici invitandoli a sedere in corridoio, tanto la sua piccola stanza era piccola, e a discutere con loro alcuni argomenti che lui proponeva e sui quali poneva tutta una serie di interrogativi e di domande. Wittgenstein tiene queste lezioni non nelle aule universitarie ma appunto in maniera quasi privata, in questo luogo se vogliamo un po' angusto, come si vede nell'immagine presente nella slide, tratta da un film che è stato girato proprio per raccontare la vita di Wittgenstein e che rappresenta questo momento della sua vita proprio in questa maniera, con questa lavagna che in realtà non c'era, ma circondato da questi amici seduti effettivamente su seggiole a sdraio. Tra questi amici, nell'estate del 1938, ci sono Rush Rees, Yorick Smithis, James Taylor, Kashmir Lui, Feodor Redpath e Maurice Drury, più alcune comparsate di un altro studente, Ursel, il cui nome viene richiamato ma la cui presenza è abbastanza sporadica. Queste lezioni non sono propriamente state dettate da Wittgenstein, ma sono state ricostruite in base agli appunti che alcuni di questi suoi studenti prendevano, in particolare dagli appunti di Rees, di Smithis e di Taylor. Sono stati in qualche modo messi insieme, integrati e in questo modo poi pubblicati. Wittgenstein non ha mai riletto e non ha mai approvato la pubblicazione di queste lezioni, che non sono state propriamente stenografate e non riportano le esatte parole di Wittgenstein. Ma sicuramente riflettono da un lato l'atteggiamento di Wittgenstein, cioè il suo modo di costruire il discorso filosofico attraverso l'interlocuzione con i suoi allievi, ma che riflettono anche l'atteggiamento di Wittgenstein nei confronti dell'estetica e dell'arte. Continuo ad associare questi due aspetti che in realtà bisognerebbe distinguere, ma per una ragione particolare che vedremo a breve. Gli appunti seguiti, come dire, il canovaccio principale è tratto dagli appunti che sono apparsi al redatore i più completi e sono poi stati integrati a piedi pagina in note, laddove qualcuno degli altri ascoltatori magari integrava aggiungendo qualcosa. Il fatto che le lezioni non siano state registrate, ma che vengano riportate attraverso degli appunti, fa porre l'attenzione a quei passaggi che sono stati scritti quasi con le stesse parole, il che significa che, siamo abbastanza sicuri, riportino la proposta originale di Wittgenstein. Non sono certo, come dire, interpretazioni dei suoi allievi. E' interessante il modo in cui Wittgenstein ha esordito la sua prima lezione con queste parole. L'argomento di cui ci occupiamo, quindi l'estetica, è molto vasto e del tutto frainteso. Per quanto posso vedere, l'uso di un termine come bello, tra virgolette, è persino più atto a essere frainteso se si guarda alla forma linguistica delle proposizioni in cui compare, di molti altri termini. Bello, e alcuni studenti hanno annotato, così come buono, è un aggettivo e si è quindi incline a dire questo ha una certa qualità. Questa qualità è quella di essere bello. Queste sono le parole con cui Wittgenstein introduce tutta la discussione che seguirà. Una discussione che spesso presenta anche delle digressioni di non facile comprensione. Wittgenstein, abbiamo detto, ha un canovaccio che intende seguire, ma non ha delle lezioni preparate in maniera sistematica. Quindi, a seconda delle sollecitazioni che riceve dai suoi studenti, prende lo spunto per fare un approfondimento che a volte rischia di essere una vera e propria digressione con, a volte, l'incapacità di riuscire a seguire un filo unitario del discorso, se non magari aiutandosi con altri appunti e con altre riflessioni che sono poi entrate a far parte, soprattutto, delle ricerche filosofiche. Il discorso di Wittgenstein ruota, quindi, intorno a questi due aspetti, al polo dell'estetica e al polo del bello. Quello che poi, in realtà, verrà in qualche modo distinto come riflessione sulla filosofia dell'arte e come estetica propriamente detta. Per Wittgenstein questi due aspetti si trovano quasi a coincidere. Lui non li distingue, non li separa nettamente. Potremmo forse dire che è il tentativo di unire questi due aspetti e comunque a recuperarli in un unico nucleo problematico che dà a questa riflessione di Wittgenstein in tutta la sua importanza. Con Baumgarten, quindi con quel filosofo con cui nasce la riflessione estetica propriamente detta, e poi con Kant questi aspetti in qualche modo vengono scissi. Ricordo semplicemente, a livello terminologico, che il termine estetica in Kant ricorre soprattutto nell'estetica trascendentale della critica alla ragion pura, mentre la riflessione di Kant sul bello compare prevalentemente nella terza critica e ha a che fare con il giudizio riflettente. Per Wittgenstein invece la riflessione sull'estetica e la riflessione sul bello in qualche modo fanno parte di uno stesso nucleo problematico. Ed ecco perché l'argomento che vuole affrontare viene definito vasto e frainteso. Vasto perché implica aspetti che erano stati separati e fraintesi perché ciò che era stato separato per lui deve essere in qualche modo riunito. E deve anche andare oltre al mero aspetto linguistico. Cioè deve andare oltre al livello dell'espressione. Comprendere che cosa significhi bello non può esaurirsi nel trovare una qualità, ma come dire, una essenza del bello. Moore aveva tentato di agire in questo modo e di definire il termine buono, per quello che probabilmente un allievo di Wittgenstein annota e aggiunge al bello anche l'aggettivo buono, attraverso l'analisi di tutte le proposizioni o delle principali proposizioni in cui buono compare come aggettivo. Quindi X è buono per tentare di definire che cos'è il buono. Wittgenstein dice che questa metodologia non può essere utilizzata nel caso del bello. Non possiamo ridurre il bello a un aggettivo come se il bello fosse il possedere un qualche tipo di qualità. Esiste un problema metafilosofico qua, perché nel caso dell'estetica il linguaggio ci fa uno scherzo. Le parole, anziché rivelarci qualcosa, in qualche modo ce lo nascondono fin quasi a tradirlo. Bisogna quindi compiere un primo lavoro di, chiamiamolo, decostruzione. Il bello, se lo usiamo come aggettivo e lo consideriamo solo come aggettivo, sarebbe un qualche cosa che definisce un'essenza. In realtà, però, non tutti gli aggettivi indicano una qualità e identificano appunto un'essenza. Possiamo usare gli aggettivi diversi che hanno funzioni diverse. Essere verde ha una funzione diversa, l'aggettivo verde ha una funzione diversa, da quella che ha per esempio l'aggettivo alto dicendo che qualcosa è alto. Nel caso dell'aggettivo alto c'è una comparazione che invece non c'è nel caso dell'aggettivo verde. E potremmo continuare con tutta una serie di esempi per cui non tutti gli aggettivi hanno la stessa funzione, ma è l'uso di un particolare aggettivo che ce ne dà, in qualche modo, il significato. Noi avevamo prima detto che il linguaggio è l'uso, viene compreso attraverso l'uso che se ne fa, caratteristica la metafora di Wittgenstein del linguaggio come cassetta degli attrezzi. Ci sono tanti usi degli aggettivi. Qual è l'uso dell'aggettivo bello? A questa parte di decostruzione bisogna poi affiancare una parte più costruttiva. Da qua l'invito di Wittgenstein a riflettere su come noi impariamo a usare l'aggettivo bello. Nasce, ci dice Wittgenstein, questo aggettivo come una sorta di interiezione, come un qualche cosa che ci viene insegnato. Bisogna quindi partire non dalla parola bello in quanto tale, ma dalle occasioni e dalle attività che si sono svolte quando si è usato questa parola, questo aggettivo, o meglio, quando altre persone ci hanno suggerito di utilizzarla. Un po' come quando abbiamo imparato a usare l'aggettivo buono che ci veniva suggerito quando venivamo imboccati con determinati cibi. Quindi bisogna sottolineare quelle situazioni, bisogna andare a cercare quali sono quelle situazioni in cui l'espressione estetica ha la propria importanza. Il linguaggio estetico, quindi, non è soltanto qualcosa che apprezza un certo tipo di oggetto. Non sta al giudizio di bello, non sta al posto del termine questa cosa mi è piaciuta. Ma piuttosto il linguaggio estetico è un qualche cosa che caratterizza un oggetto. Come se si dicesse, ho potuto apprezzare questo manufatto, questo qualcosa, perché è stato eseguito bene. Il linguaggio estetico come un linguaggio che caratterizza qualcosa in questa seconda accezione ci porta lontano da una espressione emotiva e ci avvicina all'importanza della tradizione e del contesto culturale. E' un canone che ci dice se un qualche cosa è stato realizzato bene oppure no. E' il confronto con una tradizione, con un canone, con un intero contesto culturale. Ed ecco che ritorna qua l'importanza di riflettere non tanto in primo luogo sull'aggettivo bello, quanto sulla correttezza che noi riconosciamo durante un'esecuzione musicale o durante la lettura ad alta voce di una poesia. Ma anche, ed è l'esempio sul quale Wittgenstein insiste di più, il termine correttezza utilizzato all'interno di una sartoria. La richiesta a un sarto di farmi un abito bello ha poco senso se questa bellezza, se la bellezza dell'abito che io voglio non si connette al canone sartoriale di quel momento. Per cui il sarto attinge da una tradizione ben precisa e cerca di cucire al suo cliente un abito su misura per lui. Esiste dunque una scarsa importanza degli aggettivi estetici quanto un apprezzamento del linguaggio estetico soprattutto come approvazione. Che cosa vuol dire che l'abito che ho richiesto al mio sarto è un abito bello? Non significa nulla di astratto, ma significa che io questo abito lo indosserò spesso, molte volte, in occasioni particolari, che gradirò ricevere un giudizio quando indosso quell'abito e chiederò l'apprevazione di altre persone. Questo è ciò che Wittgenstein intende con giudizio estetico. Per cui il giudizio estetico non è semplicemente, non è tanto il riconoscere una proprietà più o meno eterea a un ente, dicendo che è bello, quanto un giudizio estetico consiste nel seguire una regola, quindi nel padroneggiare una tecnica. Non è esprimere un'emozione, non è, e questo Wittgenstein lo dice chiaramente, rimanere a bocca aperta, ma è piuttosto un'attenta valutazione, una valutazione che non è mai possibile circoscrivere in tutti i suoi dettagli, perché i fattori in gioco, il contesto che dobbiamo tenere presente, è troppo vasto per poter essere padroneggiato in toto, ma è una valutazione che riesce comunque a esprimere un giudizio di correttezza. Questa correttezza viene ribadita, oltre che con l'esempio del sarto, con l'esempio della lettura a voce alta di una poesia. Siamo in grado di capire a livello sonoro se una poesia è stata letta in maniera corretta o meno. Magari dobbiamo leggerla più e più volte, dobbiamo sentirla, dobbiamo ascoltarla da una persona che la recita in maniera propria e lì ne riusciamo a coglierne la correttezza. E lì la correttezza diventa bellezza. Il giudizio estetico, dunque, è un gesto che accompagna un'attività molto articolata e non si limita semplicemente ad indicarne una proprietà. L'estetica, dunque, è il sapere che cosa si deve fare, che cosa fa una persona quando se ne intende, diciamo così, per esempio quando entra in un museo. Il giudizio estetico non è ciò che ci dice la guida durante la visita a un museo, non è propriamente neppure ciò che ci dice un critico d'arte, ma è il sapere che cosa fa una persona che se ne intende quando questa persona entra dentro a un museo. Un giudizio estetico va sostituito, quindi, dà una postura più generale nei confronti della realtà. L'esprimere, il cogliere l'aspetto estetico significa nominare la realtà, descrivere la realtà in un certo modo, in un modo estetico. È una modalità, è uno dei tanti giochi linguistici che Wittgenstein riconosce tra le varie capacità umane. Quindi, non soltanto l'attribuire l'aggettivo bello a qualche cosa in particolare, ma il vedere i vari aspetti della realtà sotto questo profilo particolare di bello. Che cosa si intende? Lo potremmo approfondire meglio nella terza lezione continuando a seguire da vicino gli interlocutori di Wittgenstein.